Oggi siamo a Trieste, sono in compagnia della dottoressa Martina Caneva, odontoiatra. Siamo alla seconda generazione qui nell'omonimo studio al centro di Trieste. Lo studio Caneva conta anche un altro ambulatorio a Lignano, Sabbia d'Oro. Siamo qui per parlare di ortodonzia. Quali sono le ultime novità parlando di apparecchi? L'ultima novità consiste in delle mascherine trasparenti che sostituiscono il tradizionale apparecchio ortodontico metallico e che hanno sicuramente numerosi vantaggi. Quali sono i principali? Sicuramente che sono invisibili e quindi possono essere portate dai pazienti adulti anche quotidianamente senza che nessuno se ne accorga e permettono di eseguire un'igiene ottimale e non sono assolutamente fastidiose. Ecco, parlando dei pazienti, perché poi si tratta di un percorso da fare insieme, tutto parte dalla diagnosi, giusto? Esattamente. La diagnosi è fondamentale per poter capire esattamente sia la situazione attuale, quindi pianificare il trattamento, sia anche capire quali sono anche le esigenze del paziente e quindi i suoi obiettivi. Accanto all'apparecchio, che è uno strumento, c'è poi il valore della consulenza. Esatto, perché in questo caso la consulenza del dentista è fondamentale, nel senso che viene eseguita un'impronta dello stato attuale del paziente e su di questo viene fatto da un logaritmo un progetto virtuale. Ma in realtà se ci si basa solamente sul progetto virtuale, il risultato non sarà sicuramente ottimale, mentre è il dentista che deve andare a eseguire delle modifiche specifiche per quel caso e che quindi lo rendono il migliore in quel caso. È il dentista che va a calibrare il progetto. Esattamente. Poi parlare di consulenza chiama in campo anche l'educazione, soprattutto per i più piccoli. Sì, infatti queste mascherine possono essere utilizzate anche nei trattamenti dei bambini e questo ci permette di seguirli anche durante la crescita e quindi anche di istruirli e motivarli anche da un punto di vista di generale, di prevenzione alla carie e quindi portarli ai 18 anni che sono realmente coscienti e consapevoli del mantenimento della loro bocca. Far capire l'importanza del sorriso. Esatto. Perché è importante? Assolutamente importante, sia da un punto di vista funzionale, quindi per quanto riguarda la masticazione, avere una corretta masticazione, un corretto equilibrio e che quindi questo può prevenire anche eventuali problematiche anche muscolari o posturali e sì anche perché il sorriso è fondamentale per poter esprimere le proprie emozioni e quindi acquisire anche autostima. Grazie dottoressa per i preziosi consigli e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a lei.